Noi veniamo da giorni dove il progresso della Russia è stato costante, quindi questa domanda se la fanno in tanti. Una delle cose che ha detto il Presidente Zelensky è che dovrà partire un contrattacco e si è detto fiducioso che questo possa riuscire. Quindi non sono tanto dei dubbi quanto quelli espressi dal Presidente Biden, quanto della preoccupazione perché il progresso russo c'è stato, non c'è altro che possa dire su questo.